Presentato un progetto da 5 milioni per la realizzazione del nuovo liceo artistico a Teramo, sarà proprio ex novo? Sì, dopo uno stito di fattibilità sulla sistemazione e realizzazione e messa a norma in sicurezza, abbiamo stabilito con gli uffici che era più conveniente di morirlo e ricostruirlo ex novo. Abbiamo innanzitutto una diminuzione della metratura da 3200 metri quadrati circa a 2300 metri quadrati circa, questo non è una cosa negativa ma sarà così ancora più funzionale perché lì c'erano molti spazi che non venivano utilizzati, c'è un aumento di aule, ci sarà un aumento di spazi per i laboratori e quindi i ragazzi possono sicuramente svolgere meglio le loro funzioni all'interno della scuola. Quindi potranno essere inseriti più studenti rispetto a quanti ce ne sono adesso? Attualmente credo siano 250 circa i ragazzi e sicuramente con le nuove aule sarà possibile permettere l'iscrizione a più ragazzi, anche perché, come si ricordava anche durante la conferenza, è l'unica scuola in provincia di Teramo liceo artistico. Che tempistica per i lavori? Poi anche perché insomma siamo ancora nella fase progettuale, ci vorrà tempo? Successivamente le ferie estive verrà pubblicato il bando per la progettazione e inizio 2020 verrà pubblicato il bando, dove si dovrebbero affidare i lavori per la realizzazione. E poi ci vorrà un anno o un paio d'anni? Crediamo un anno e mezzo o due se tutto procede per il verso giusto. I ragazzi nel frattempo? Questo dovrà essere uno studio fatto all'interno di tutti gli istituti di Teramani e dobbiamo trovare una disponibilità, perché ovviamente in quei due anni i ragazzi non possono andare a scuola in una scuola demolita, in fase di ricostruzione, ma chiaramente sarà a cura della provincia rendere questi due anni meno difficoltosi e più fruttuosi possibili anche per i ragazzi. E nel frattempo insomma ci sono anche, sono arrivati altri due milioni per, circa due milioni per i lavori di manutenzione di altre scuole che si sommano poi agli altri lavori che devono essere fatti un po' su tutti i plessi scolastici ovviamente della provincia? Nel totale sono circa 58 milioni di euro di interventi, l'ultimo milione e 800 mila euro è stato investito per quasi tutte le scuole di Teramo città, lo Zoli di Atri e a cui poi sono riservati anche altri finanziamenti e per le scuole di Nereto, il Peano e il Rosa. Per quanto riguarda il Come, anche questo è uscito in conferenza? Il Come, i lavori stanno ultimando, è stato come diceva l'ingegnere di Melchiorre, è stato rifatto interamente il tetto, è stata fatta la messa in sicurezza degli indici sismici da 0,33 a 0,83 e quindi insomma la scuola è perfettamente fruibile e sicura a livello sismico. Insomma potrebbe essere riconsegnata per settembre, ottobre? Credo di sì, credo di sì.